Un'ampia chiazza di olio minerale alla deriva sulla superficie del lago di Garlate, giunta sulle sponde di pescata, arenandosi per effetto delle correnti lungo tutto il tratto di riva a partire dalla frazione Torrette e sino al confinante comune di Garlate. Alla denuncia del WWF di Lecco ha fatto seguito l'intervento della polizia provinciale e sono stati immediatamente allertati l'Agenzia regionale per l'ambiente e il servizio di vigilanza etico-venatoria che hanno dato il via alle operazioni di indagine e di bonifica. Gran parte degli uccelli acquatici che popolano la riva sono stati imbrattati dal liquido al punto che il loro piumaggio si è reso immediatamente inutilizzabile costringendole a rifugiarsi fuori dall'acqua, spiega il WWF. Allertato anche il centro di recupero della fauna selvatica WWF presso l'Oasi Valpedrina di Cenate in provincia di Bergamo per l'operazione di salvataggio di pulizia degli uccelli contaminati. Dopo l'episodio dello scorso fine settimana che ha interessato il fiume Abrivio, un'altra ferita che si abbatte sul già martoriato habitat del lago di Garlate del fiume Adda. Si tratta di idrocarburi, precisa il comandante della pulizia provinciale Raffaella Forni. Abbiamo recuperato alcune carcasse di pesci che sono state inviate all'istituto zoo profilattico per le analisi del caso.